Buongiorno a tutti voi, buon lunedì mattina, buon inizio di settimana, un inizio di settimana all'insegna della nebbia come vedremo fra poco, c'è naturalmente nelle prime ore della mattina attenzione a questo fenomeno ma procediamo con ordine, i giornali sono pronti, guardiamo le previsioni del tempo ma anche il santo del giorno, oggi è lunedì 14 dicembre, San Giovanni della Croce sacerdote, il sole sorge fra pochissimi minuti 7 e 33 e tramonterà alle 16 e 31, vedete giornate molto corte, come vi dicevo la nebbia, questa è l'immagine che ci rimanda la nostra webcam sull'osservatorio meteorologico di Fano TV e questa è la temperatura, al momento sono poco più di 3 gradi c'è tanta umidità appunto per via della nebbia, osservatorio meteorologico che potete consultare anche andando sul nostro sito di Fano TV e potete monitorare le condizioni del tempo di Fano anche se siete fuori città e volete vedere che tempo fa da queste parti e naturalmente le previsioni sono confermate anche dalla protezione civile, vedete questa è l'immagine, poco nuvoloso, nubi basse al mattino precipitazioni assenti, le temperature sono in lieve aumento nei minimi e questa è la fotocopia anche per domani come vedete la simbologia della nebbia c'è proprio perché effettivamente con un cielo sereno e poco nuvoloso c'è appunto questa presenza di basse nubi che crea la nebbia e le foschie al mattino e la tendenza per i prossimi giorni sarà la stessa condizione di bel tempo stabile con un possibile peggioramento però soltanto nel fine settimana che cosa ha caratterizzato questo weekend, questo fine settimana pre-natalizio è naturalmente l'apertura delle porte nelle cattedrali della nostra provincia e poi lo shopping natalizio, quello che c'è in questo periodo e quindi vediamo nelle pagine del resto del Carlino, apriamo con la pagina principale dell'inserto locale c'è appunto voglia di fede, Monsignor Trasarti nel Duomo con il piccolo rifugiato sulla nave militare tanta gente però anche alle aperture di Pesaro e di Urbino, davvero un day di festa per la WL perché non è più ultima, si parla di basket naturalmente e quindi insomma anche di banca Marche i dipendenti sono preoccupati, ora i dipendenti e poi qui all'Atrema lo ritroveremo un po' in tutti in tutti i quotidiani, le minacce di sgarbi, di dimissioni per l'albero di Natale e qui insomma anche l'albero di Natale di Urbino fa discutere, dopo vedremo anche perché Monsignor Coccia, andiamo nelle pagine che appunto riguardano questo evento l'apertura delle porte, due pagine, la 4 e la 5, il resto del Carlino dedica a questo Monsignor Coccia, quindi siamo a Pesaro, il Giubileo generi misericordia e solidarietà l'Arcifescovo dice si ridoni dignità a chi ne è stato privato all'interno tutte le foto anche di questo evento che si è ripetuto anche a Fano il Vescovo Monsignor Trasarti ha varcato la soglia del Duomo con il piccolo Divine Dignity che è nato su un barcone durante l'approdo in Italia, vedete nella foto proprio il momento in cui hanno varcato assieme la porta anche a Urbino, Monsignor Tanni in Duomo con un corteo lunghissimo e vi dicevo dell'albero di Natale che naturalmente sta facendo vivere notti insonni anche al sindaco di Urbino, Sgarbi minaccia le dimissioni per l'albero di Natale e lo vedete, eccolo qua ve l'ho cerchiato in rosso, ecco sinceramente non brilla di tradizione natalizia, è un albero comunque artistico ma molto contestato da Sgarbi che appunto minaccia le sue dimissioni per questo albero e anche per la presenza del circo, anche questa è una cosa che non piace molto al noto critico d'arte, mi dispiace, spero ci ripensi, queste le parole di Gambini con Vittorio, abbiamo tanti progetti in corso e se volete insomma vedere, fare un excursus degli alberi di Natale tra Romagna e Marche a pagina 20 del Carlino c'è tutta una panoramica fotografica di tutti gli alberi che sono presenti appunto in queste due zone Romagna e Marche dove potete fare la vostra personale classifica. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui in piena pagina la foto appunto di Monsignor Trasarti e il piccolo rifugiato, però si parla anche della danza che ha illuminato la città in questo giorno di Santa Lucia, ieri spettacolo dei ballerini, ha acceso il centro storico fino all'apertura appunto della Porta Santa e poi nell'incontro del vescovo tradizionale di fine anno con i politici dice appunto una politica più sociale, il vescovo si augura una politica più sociale, si è svolto ieri il tradizionale incontro di fine anno con il vescovo e i politici di tutta la diocesi. Vedete qui poi ritornando sull'argomento della giornata di Santa Lucia, vedete qui le foto degli avvenimenti in piazza e lungo le strade del corso. Ancora nel Corriere Adriatico andiamo a Pesaro, anche qui invasione in centro, si parla di invasione di pienone perché appunto c'era questo duplice evento, l'apertura della porta e anche i negozi aperti in centro, quindi pienone, però si parla anche in testa della pagina di Pesaro dello stop del tar al referendum, quindi referendum sospeso, ora il vice sindaco Vimini dice hanno fatto perdere 2 milioni alla comunità, noi andiamo avanti, si voterà in primavera e quindi si rivolge a coloro che erano, insomma che tifavano per questa sentenza del tar e che insomma tra virgolette perdona il tar ma accusa Cecconi e Carloni di disfattismo, Cecconi è l'onorevole 5 Stelle, insomma Mico Carloni invece è il consigliere regionale. Alle accuse appunto di aver bruciato 50 mila euro lanciate dall'opposizione, l'assessore replica appunto. Ora chi paga? Rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico però andiamo nella limitrofa Senigallia perché anche qui hanno a che fare con un Natale un po' conteso e naturalmente gli acquisti languono e allora che cosa succede? Che al mercato allo stadio, tradizionale mercato natalizio, ci sono 40 rinunce. Belardinelli della Confesercenti dice che tutto ciò è dovuto al fatto che gli affari non decollano. Però una cosa carina ve la volevo far vedere in questo articolo del Corriere, tra le tante iniziative appunto del Natale ce n'è una tutta senigallese che è quella del Bit on Day Prenatal che praticamente mette in riciclo i regali natalizi dell'anno scorso, insomma quindi se non vi erano piaciuti li potete rimettere in circolo in questa cosa molto carina, molto anche ecologica, molto votata al risparmio. Cambiamo testata, passiamo a Pesaro per il messaggero, anche qui in testa Banca delle Marche rimane un articolo principale del messaggero, l'assemblea è un'assemblea ad alta tensione, dipendenze, azionisti e obbligazionisti si ritroveranno al Flaminio per decidere la strategia. Almeno i 500 sono i casi che scottano clienti sull'astrico, ecco quelli che risarciremo. E poi i funerali del giovane stroncato dalla droga a 22 anni, oggi ci sarà l'addio, lo strazio degli amici a San Cesario di Fano, nel pomeriggio i funerali di Alan Perelli. E poi in pie pagina il vescovo di Fano lancia un monito appunto ai politici, basta litigare, Monsignor Tasarti si rivolge alle forze di maggioranza e dell'opposizione della sua diocesi, invitandoli a una dialettica più mirata al dialogo e alla coesione. E anche qui vi facevo vedere appunto nelle pagine del messaggero il sacro e il profano mandano in tilt centro e viabilità, siamo a Pesaro e sempre rimanendo a Pesaro, ultimo weekend per Candelia Canderala, chiusura col botto, si sa perché si dice sempre col botto, apertura col botto, chiusura col botto, insomma tanti botti, con oltre 12 mila visitatori nel weekend. Il piccolo borgo nell'ultima delle otto giornate ha raggiunto i 60 pullman di turisti e quindi veramente un afflusso record. Alla fine poi siamo a Fano, l'albero più chiacchierato ha rivitalizzato il cuore di Fano, soddisfatto il movimento di gente che c'è stato e apprezzamento dal comitato. Apriamo il centro e quindi vi faccio vedere anche l'articolo che riguarda Banca Marche che era presente nella pagina di apertura del messaggero, 500 sono appunto i casi che scottano e sto seguendo appunto un cliente che ha visto andare in fumo 500 mila euro di investimenti. E poi in fondo alla pagina due articoli che vi segnalo, uno che riguarda un furto di biciclette a Mondolfo, Mondobici, i carabinieri a un posto di blocco individuano un furgone, gli danno la caccia, si inseguono e una volta raggiunti i lati abbandonano il mezzo e c'erano dentro appunto le biciclette, insomma refurtiva recuperata per l'ultimo furto. E poi da San Costanzo un allarme, c'è chi telefona agli abitanti di San Costanzo per una presunta trasmissione televisiva di Mediacet che dovrebbe sbarcare a San Costanzo e quindi si chiedono soldi per l'illuminazione delle vie del centro. Tutto falso, luminarie gratis in comune ma è una truffa per rubare. Il sindaco di San Costanzo invita i cittadini a prestare attenzione e quindi cittadini di San Costanzo ma anche non solo di San Costanzo, tutti quanti, attenzione a queste telefonate. Vi faccio vedere le pagine dello sport che insomma per quanto riguarda il Fano non è stata una domenica di soddisfazioni, anzi molta amarezza e Matelica sorpassa il Fano, Matelica 2 Alma Juventus Fano 0. Andiamo invece a Pesaro dove sorti diverse, anzi completamente ribaltate per quanto riguarda la Vissi che vince per 2 a 1, il minuto fatale, stavolta gli sorride, vincono la partita al 94esimo. Vi lascio con una nota positiva, se alberi di Natale non vi danno atmosfera natalizia o quant'altro ci pensa la musica e quindi a Natale di ricore il Gospel. A Fano arriva il NIAC College di New York che è un college particolarmente famoso per l'educazione musicale e classica e Gospel. Il tutto ci sarà il 22 dicembre al Teatro della Fortuna alle 21.15, il NIAC Gospel Singer quindi in un ensemble musicale per ricreare l'atmosfera e il calore natalizio. Bene, grazie per essere stati con noi questa apertura di settimana. Naturalmente Occhi Giornali torna domani mattina alle 7.30 ma io vi do l'appuntamento noi ci rivedremo questa sera alle 20.30 per il Telegiornale. Buon lunedì a tutti.